la mamma affranta e si pensava tu fossi morto diabolik ma che diabolik è la minonna calzamaya che fa yoga bello siete due karate kids, siete due comici e... bravi, 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 delle vere stelle sono quattro kids quattro kids basta cazzate anche il mio c'è nessuno da qui qui, c'è nessuno da qui, qui, qui fuuuu fuuuu mi sei fatto male eh com'è bello 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 E' arrivato il momento per voi, cari giudici, di fare delle scelte drastiche per arrivare a un numero possibile. Vi auguro un buon 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 lavoro e state tranquilli, c'ho tutta la notte per scegliere, eh, relax. Ciao! Ragazzi, se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al nostro canale YouTube oppure visitate il nostro sito internet.